Non ce l'ha fatta, il 59enne è coinvolto nello schianto avvenuto venerdì intagenziale sulla bretella per Abano Terme. La giudice apostolico l'anno scorso testimoniò in tribunale a Padova dove il figlio era imputato per aver preso parte degli scontri avvenuti fra polizia e centri sociali. Usavano un 13enne per entrare nelle case, compie le razzie, arrestati tre rom, tra di loro anche una donna incinta, si muovevano nei quartieri di Padova con i mezzi pubblici. Violenta lita all'Arcella, sabato sera un 24enne tunisino è stato aggredito e coltellato alla gamba via Buonarroti sotto gli occhi dei passanti. Sono comparsi nel fine settimana centinaia di volantini nella zona del ghetto, in tutta la città con le foto dei civili rastrellati durante l'attacco di Amassi. Sono arrivati a Padova nel cuore della notte le reliquie di San Pio X dove all'alba sono iniziate le visite dei pellegrini. Cittadella ringrazia con una grande festa i volontari che hanno combattuto la battaglia del Covid. Buongiorno e benvenuti al Tg di Telenordeste. Abbiamo questa edizione con la cronaca perché non ce l'ha fatta purtroppo l'uomo coinvolto in un incidente sulla direttissima di Abano Terme. È morto dopo tre giorni di agonia il 59enne di Abano Terme rimasto coinvolto in un tremendo incidente lungo la direttissima verso il comune termale venerdì pomeriggio. La vittima è Giancarlo Girardi, titolare della nota catena ortopedica Medical Girardi. L'impatto frontale tra i due furgoni, un botto tremendo. Girardi era la guida del furgoncino Volkswagen più piccolo che ha improvvisamente invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion per il trasporto di bevande. Il suo furgone si è fermato dopo un centinaio di metri. Impressionante la foto in cui si vede la parte del furgone completamente squarciata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato il 59enne in ospedale in gravissime condizioni. Il quadro clinico però non si è mai stabilizzato e l'uomo è morto nella notte. Cambiamo argomento perché passa anche da Padova la polemica ormai nazionale ovviamente sulla giudice apostolico. Vediamo perché. A fomentare la polemica sulla giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, del decreto Cutro non convalidando il trattenimento di alcuni migranti nel centro di Limpatria, ora non sono i video in cui la si vede manifestare nel 2018 al molo di Catania per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati dall'allora ministro dell'interno Salvini sulla nave di Ciotti. Ma la sua testimonianza in Tribunale a Padova nel processo che vedeva coinvolto il figlio Francesco Moffa imputato per gli scontri avvenuti il 29 marzo del 2019 nella città del Santo durante una contromanifestazione dei centri sociali per protestare contro il corteo no aborto indetto da forza nuova. Il figlio della giudice apostolico insieme ad altri attivisti dei centri sociali aveva partecipato alla contromanifestazione culminata negli scontri con la polizia in via Oberdan sotto le finestre del comune di Padova. Una decina di manifestanti finì a processo perché si contarono dei feriti tra le forze dell'ordine ma tutti i manifestanti vennero poi assolti. La giudice apostolico venne convocata come testa a Padova e testimoniò nel processo che vedeva imputato il figlio. Il ragazzo poco dopo gli scontri infatti aveva chiamato la madre e le aveva inviato un video delle foto di un'amica ferita e di un suo ematoma alla gamba. In aula a Padova apostolico testimoniò dicendo che il figlio le riferì che la polizia aveva usato violenza sui manifestanti. Questo nuovo episodio che riguarda la giudice apostolica ha buttato benzina sul fuoco della polemica politica va ad intervenire questa volta e anche il sindacato di polizia FSP che all'epoca attraverso il loro avvocato aveva assistito gli agenti coinvolti negli scontri. Il sindacato di polizia in una nota stampa scrive vogliamo che i poliziotti abbiano serenità e fiducia verso la granitica istituzione della magistratura ma evidentemente di fronte ad eventi del genere la piena convinzione della terza età di un giudice legittimamente vacilla. Cambiamo argomento, torniamo nella pagina della cronaca perché sono stati arrestati un uomo e due donne specializzati in furti in casa ma guardate come. Usavano un bambino di 13 anni per compiere furti in abitazione. Tre rom ventenni sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile. Gli agenti durante un servizio di controllo del territorio avevano notato al minorenne suonare al citofono di alcune abitazioni di via Alfieri nel quartiere Guizza entrare e poi uscire dopo pochi minuti ad attendere il tredicenne vicino ad un bar di via Pindemonte un ragazzo di 20 anni e due donne di 22. In sospettiti i poliziotti li hanno pedinati. I tre hanno preso un tram, si sono diretti ai giardini dell'arena, poi in zona stazione. Anche in questo caso il tredicenne ha suonato i campanelli di diverse abitazioni senza ottenere risposta. Il gruppo è così nuovamente salito in un autobus verso via del Pescarotto. Il tredicenne sempre con un grosso marsupio seguito a distanza dai tre ventenni. Il gruppetto ha girato per tutto il quartiere Stanga entrando anche in un fast food e in una pizzeria. Dopo pranzo il minorenne e i tre ventenni si sono diretti verso via Ariosto. Qui mentre l'uomo faceva da palo, il tredicenne e le due donne sono riuscite ad entrare in uno stabile. Una volta usciti i poliziotti li hanno fermati e controllati. Nel marsupio il tredicenne aveva un cacciavite, una lastra di plastica e una chiave inglese appena usati per forzare le porte delle abitazioni di via Ariosto. Nella borsa le due donne avevano braccialetti, collane e orecchini, mentre il ventenne aveva 550 euro. La refurtiva è stata recuperata e sequestrata e queste sono le foto divulgate per ritrovare i proprietari. I quattro che arrivavano dalla provincia di Venezia sono stati portati in questura e foto segnalati. Tra i ventenni sono stati arrestati e portati in carcere. Una delle due donne in stato di gravidanza avanzata è stata però scarcerata. Il tredicenne, vista la sua età non imputabile, è stato segnalato alla procura dei minori e affidato ad una comunità. Sabato sera c'è stato un accoltellamento in pieno centro storico a Padova. Vediamo il servizio. Sabato sera di violenza all'Arcella a Padova. Poco dopo le 23 in via Bonarroti, le volanti della questura sono intervenute dopo la segnalazione di una persona ferita in strada. L'uomo, gravemente ferito alla gamba, è un 24enne di origini tunisine residente in città. Grazie alle testimonianze i poliziotti sono riusciti a ricostruire che poco prima del loro arrivo un gruppo di 6 o 7 giovani, probabilmente nordafricani, aveva aggredito il 24enne ferendolo con un'arma da taglio. Degli aggressori però non c'era nessuna traccia. Dopo il ferimento infatti si sono dati alla fuga. L'uomo, aggredito, soccorso dei sanitari del SUAM 118 e poi trasportato in ambulanza al punto soccorso dell'azienda ospedaliera, non ha fornito ulteriori chiarimenti. Il 24enne è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Gli agenti della questura stanno esaminando i filmati delle telecamere presenti sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica della violenza. Restiamo in centro a Padova, parliamo dei rapiti, le foto, le informazioni di uomini, donne e bambini, anche di neonati israeliani rapiti da Hamas nel raid avvenuto lo scorso 7 ottobre. I volantini sono apparsi nel centro di Padova, soprattutto nella zona del Ghetto, Ponte Corvo, Piazza Castello. Nel fine settimana nei volantini si chiede di fotografare e divulgare queste informazioni per aiutare e sensibilizzare la comunità internazionale e ritrovare gli oltre 200 rapiti attualmente nelle mani dei terroristi. La guerra scoppiata in Israele sulla striscia di Gaza dopo gli attacchi di Hamas sta coinvolgendo l'opinione pubblica padovana. La scorsa settimana gli studenti universitari avevano affisso uno striscione pro-palestina. Adesso ci spostiamo davanti al Duomo di Padova dove Chiara Gaiani ci aggiorna sulle novità della peregrinazio delle spoglie di San Pio X. Buongiorno Ferdinando, buongiorno telespettatori. Ci troviamo sul sagrato della Basilica del Duomo di Padova con il collega Cristian Rocca Allende. Nel cuore della notte l'arrivo da Riese Pio X delle spoglie di Papa Sarto, di Papa San Pio X, che dall'alba sono venerate all'interno della Basilica Cattedrale. Come potete vedere il portale è aperto. Un profondo legame quello tra Papa Sarto e la città di Padova nel 1850. Qui arrivò giovanissimo seminarista e in alcune sue lettere si legge che qui trascorse gli otto anni più belli di tutta la sua vita. Ma c'è un legame anche tra la famiglia Sarto e Padova perché secondo alcune ricerche ci sarebbe proprio un'origine padovana della famiglia Sarto per la precisione da villa estense. La peregrinazio che durerà due giorni a Padova si è aperta all'alba alle 7.30 con la celebrazione della Santa Messa e poi con le lodi presedute dal vescovo di Padova Claudio Cipolla. Ma allora andiamo a vedere queste prime ore delle spoglie di San Pio X qui a Padova nel servizio che abbiamo costruito in redazione. L'arrivo nel cuore della notte è il sagrato della cattedrale silenzioso ad accogliere il furgone con le reliquie di Papa San Pio X che ritorna nella città dove arrivò nel 1850 giovane seminarista. All'alba alla Santa Messa e poi le lodi iniziano la solenne peregrinazio dei fedeli che durerà fino a domani sera. La provvidenza ha voluto che Giuseppe Sarto diventasse vescovo, poi patriarca e poi Papa. Ecco però è la storia di uno di noi, non è la storia di uno che cade dall'alto ma che nasce dalle nostre terre, dalla nostra cultura, dalla nostra spiritualità. Immaginiamo i genitori, i nonni, gli amici vicini di casa. Ecco, Papa Pio X è nato da questa nostra terra. Ci si sente parte di una storia preziosa e grande, ci si rende conto di essere innestati in radici molto robuste e non per guardare con nostalgia esagerata il passato ma per essere anche all'altezza delle sfide dei tempi di oggi. Un percorso apposito accompagna i pellegrini nel Duomo che parte dall'altare dedicato a San Pio X e arriva poi al centro della Basilica Cattedrale dove si può sostare davanti alla tecchia con le reliquie del pontefice. Un legame solido quello con la chiesa di Padova, un silenzio che nella contemplazione si riempie di preghiera. È stata un'emozione? Sì, sì, veramente, grande anche, perché io ero bambina, perché mi ricorda tante cose. Un silenzio, una cosa rilassante, ma dentro una cosa emozionante. Domani alle 18, durante la celebrazione dei Vespri che saluteranno le reliquie che si sposteranno a Venezia, dove San Pio X fu patriarca, dalla Basilica Cattedrale e da tutte le chiese di Padova salirà una preghiera per la pace. Due settimane prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Papa Pio X è morto, lasciando delle parole brevi, sintetiche, ma molto sentite, in favore della pace. Ci colpisce molto questa coincidenza. Domani ci raccoglieremo anche in modo speciale alle 18 con il nostro Vescovo Claudio, in preghiera per questa grande intenzione. Quindi la provvidenza ci dà questo segno e chiede, io ho detto spesso questo, di pregare per la pace lontano, ma di costruirla già qui, già nel nostro oggi. L'avete sentito domani alle 18 solenne Vespro, qui nella Basilica Cattedrale, in cui si pregherà per la pace, in comunione con tutta la chiesa italiana. Sarà questo il momento conclusivo della due giorni a Padova, delle reliquie della Peregrinazio Corporis di Papa San Pio X. Ieri il saluto a Riese Pio X, dove era tornato a 120 anni dalla sua elezione al soglio pontificio all'interno del santuario della Madonna delle Cendrole, la solenne celebrazione di commiato di saluto, presieduta dal segretario di Stato, Cardinal Pietro Parolin. Anche qui Lucio Zanato lo ha avvicinato e dal Cardinal Parolin è davvero un accorato appello per la pace. Allora sentiamo le parole del Cardinal Parolin, poi da Padova restituiamola lì nello studio. Lei ha richiamato tantissimo questa pace, ma questa pace è possibile? La pace è sempre possibile perché è dono di Dio, impegno degli uomini, ma il problema è l'impegno degli uomini, se vogliono veramente la pace e se i politici hanno la volontà politica di costruirla la pace. Cosa si può insegnare San Pio X in questo senso? San Pio X può insegnarci che la pace si costruisce giorno dopo giorno attraverso l'attenzione alle persone, soprattutto ai più poveri e ai più vulnerabili. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo sui colli ugani per le ultime notizie relative alla presenza eventuale o meno della peste suina sui colli. Non c'è nessun caso di peste suina sui colli ugani? Questa la risposta del presidente dell'ente Parco Colli, Alessandro Frizzarin, a chi giustamente si preoccupa per l'epidemia che si sta diffondendo. Questo non significa che si stia trascurando il fenomeno, continua Frizzarin in una nota. I controlli sono quotidiani da parte delle guardie del parco e finora non sono stati trovati animali morti. La peste suina è una malattia che colpisce maiali e cinghiali e non comporta nessun pericolo per l'uomo. L'altissima mortalità degli animali, però, comporta un grosso danno economico. L'ente Parco Colli rassicura anche sul numero di cinghiali presenti sugli euganei. Gli avvistamenti sono stati inferiori rispetto allo scorso anno e anche gli abbattimenti tramite i serecontrollori sono diminuiti. Dal 1 gennaio al 31 agosto del 2023 sono stati abbattuti 1.298 capi contro i 1.640 dello stesso periodo dell'anno precedente. Voltiamo nuovamente Pazio e ora ci occupiamo di sanità. Andiamo in urologia. Il battesimo con la prostatectomia radicale, l'evoluzione successiva ha toccato un numero sempre maggiore di interventi. Il robot ha rivoluzionato e migliorato le tecniche operatorie della scuola di urologia dell'azienda ospedale Università di Padova arrivati quest'anno a festeggiare 4.000 interventi. Questa esperienza è cominciata molti anni fa, nel 2005, e attraverso la sostituzione e anche il progressivo aggiornamento delle macchine ha permesso di estendere il numero e la tipologia degli interventi. Siamo nani sulle spalle dei giganti perché bisogna riconoscere quello che è stato fatto prima di noi e che ci ha permesso poi di estendere, di migliorare le indicazioni. Padova ha una lunga storia per quanto riguarda per esempio il tumore della vescica ma non solo. E quindi siamo alla fine il risultato di un processo che è cominciato molti decenni fa. 15 medici, 40 speciali zandi, 23 infermieri e os. L'urologia ogni anno svolge più di 35.000 visite ambulatoriali e oltre 4.500 interventi. A fine anno quelli eseguiti con il robot saranno 500, tra i quali la resezione parziale del rene, ma anche il trattamento del prolasso utero-vaginale severo. Una scuola che ha portato l'urologia a classificarsi 24esima tra i reparti di tutto il mondo nella classifica stilata dalla rivista Newsweek e a far parlare per quanto riguarda la ricostruzione della vescica di metodo padovano. Ma le prospettive si ampliano in continuazione anche con l'arrivo in sala operatoria della realtà aumentata. Ci aspettiamo entro i prossimi anni, i prossimi 5 anni non più, di avere per esempio un'integrazione tra le immagini dell'attacca e della risonanza preoperatoria con l'immagine che abbiamo endoscopica del paziente. È come se voi vi immaginaste di poter vedere in trasparenza lì dove c'è la lesione, l'organo, la malattia da togliere, in modo da poter rendere l'atto chirurgico più semplice ma allo stesso tempo anche più sicuro. La Nella Sanità è più sociale questa notizia perché a Cittadella si è deciso di ringraziare tutti quelli che si sono spesi durante la battaglia del Covid. Una serata speciale, una festa per centinaia di persone. Un ringraziamento immenso per chi si è speso nei giorni terribili del Covid per aiutare la collettività. Cittadella ha celebrato i suoi tanti volontari in un evento che ha coinvolto tutte le associazioni del territorio. Dovevamo ringraziare tutte quelle persone che nel 2000, da 2000 a 2022, grosso modo, si sono date da fare per venire incontro alla popolazione nel periodo più duro, penso, della nostra storia, quello del Covid. E quindi ecco, questa sera abbiamo deciso di fare una cena, che sarà una festa semplicemente per ringraziare queste persone a nome di tutta la cittadinanza, non solo di Cittadella, ma di tutti i comuni che fanno riferimento all'ospedale di Cittadella. La festa è stata ospitata nella struttura dei volontari di Caonorai che hanno fatto da padroni di casa in un evento di grande importanza non solo per Cittadella, ma per tutta l'Alta Padovana. Volontari Caonorai vuol dire passione e solidarietà per le altre persone. In quei giorni tutto ruotava attorno alla sanità cittadellese che ha riunito in una grande famiglia l'azienda sanitaria e le associazioni del territorio per rispondere alle esigenze della popolazione. Tutte hanno lavorato insieme praticamente per cercare di contenere il più possibile questa infezione in un momento in cui non si conosceva, l'era drammatica la situazione, e dare, ripeto, appunto una risposta naturalmente sanitaria a chi ne aveva bisogno. Questa era l'ultima notizia del nostro telezonale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.